Questo programma è offerto da John Cage Center Bitonto e Campus Università, Caseificio Gioia. WeWork, sicurezza, medicina del lavoro, verifiche periodiche, formazione. Amici del Ruggito Neroverde, buonasera, benvenuti a questa nuova puntata, l'ottava del format dedicato al mondo del Bitonto Calcio. Questa sera parleremo ovviamente della sconfitta rimediata dal Bitonto in casa per una rete a zero contro il Nardò. Poi nella seconda parte, come di consueto, ci tufferemo nella prossima sfida che i Neroverdi affronteranno sull'ostico campo della Cavese. Lo faremo in compagnia alla mia destra di Gioacchino Carullo. Buonasera Chicco. Buonasera, buonasera a tutti. In collegamento abbiamo il nostro Mario Sicolo, direttore del giornale da Bitonto. Ciao Mario. Ciao Claudio, saluto il campione ospite questa sera. Un caro abbraccio a tutti gli amici e ai fedelissimi Neroverdi collegati con noi da tutto l'Orbe, Terra Aqueo, multimediale non solo. Dopo avremo in collegamento anche Michele Lodato, addetto stampa della Cavese proprio per parlare della prossima sfida del Bitonto. Però permettetemi di aprire andando ad abbracciare la famiglia Rubini per la scomparsa del piccolo Nico. Purtroppo ci ha lasciato a soli sei anni e partirei proprio da questo argomento Mario perché è una notizia che ha sconvolto tutta la città di Bitonto. Sì, l'altro giorno ho avuto anche l'onore e anche la grande commozione di partecipare alle esequie del piccolo Angelo Neroverde. E' un angelo che già è stato esemplare nella sua pur breve vita, essendo stato davvero un eroe dell'amore così come è stato definito da Don Vito Piccinonna, il parroco della Basilica dei Santi Medici, la chiesa dove appunto si è tenuta la chiesa gremita, anche di campioni del nostro calcio, di uomini che hanno diviso il terreno di gioco sia col padre Francesco, sia con lo zio Leo, ma anche col piccolo Nico che spesso entrava in campo a giocare col papà. E beh, effettivamente credo che sia una ferita che ha dilaniato il cuore di tutto l'ambiente neroverde. Un ambiente neroverde davvero provato in questi anni. Ecco, apre e chiudo velocemente questa parentesi, Claudio, se mi consenti. Noi siamo qui che facciamo il nostro, dobbiamo anche dare in alcuni passaggi il nostro sguardo critico sugli eventi, sulle vicissitudini calcistiche del Bitonto. I tifosi, l'ambiente, i sostenitori sono esigenti, vorrebbero sempre che i neroverdi vincano. E però se appena appena ci fermiamo un attimo e riflettiamo su quelle che sono state le dolorosissime rinunce, le ferite che ha subito il cuore neroverde in questi anni. E ricordo appunto Ciccio Marrone, il padre del presidente Pinuccio Rossiello, il padre del presidente Francesco, e ultimo, ma assolutamente non ultimo, anzi forse primo nella graduatoria dell'amore, appunto il piccolo Nico, che ha sofferto, ha vissuto su questo letto di dolore lacerante per anni, rimanendo sempre eroicamente fiero, fiero esattamente come un leoncello. E noi credo che non riusciremo mai e poi mai a dimenticare questo piccolo angelo neroverde. Un abbraccio va anche al nostro Mario Romano per la perdita del caro padre, una settimana veramente nera purtroppo da questo punto di vista. Chico, partiamo anche con te da questo argomento. Mi immagino che anche nello spogliatoio si vive un'atmosfera non proprio delle migliori. Sì, noi abbiamo avuto la notizia e siamo rimasti un po' scioccati tutti per questa triste notizia. Io personalmente sono andato al funerale del piccolino, è stata una cosa molto toccante, una cosa di cui non dovremmo nemmeno stare qui a parlare, perché pensare che si può perdere la vita a soli sei anni è una cosa che ti tocca e segna chiunque. Anche io personalmente non lo conoscevo, però è una cosa che ti fa rimanere veramente male. Dopo questa doverosa apertura adesso proviamo a voltare pagina. Andiamo a vedere nel servizio proprio di Mario Sicolo le immagini della sconfitta del Bitonto contro il Nardò. Ormai il canovaccio è sempre il medesimo. I leoncelli sputano l'anima sul prato groviera, azzannano tacchetti e garretti altrui. Poi bastano un'amnesia, un episodio, un inezio e la partita per il Bitonto si fa ineluttabile tragedia. È capitato anche contro il Nardò dell'ex Nicola Ragno, ora appaiato al Casarano sulla terza piazza del Girono. Mister Valenano Noseto scombussola un poco l'undici di partenza con Petrarca a difesa dei sette metri e spiccioli fatidici, Silletti e Gomes baluardi centrali, Carullo e Riefolo pendolini, Spinelli facitore di gioco con Clemente e Mariani a far legna, davanti il fantasista attascabile Taurino alle spalle di Figliolia e Chiaradia avanzato e a piedi invertito. Il tecnico Molfettese mette insieme con Arguzia un manipolo di filibustieri scafati, Viola in porta, cintura difensiva con Urchiza, Lanzolla, Mamengoli, Ciraci, Agnello e Polichetti a menare le danze, D'Ambros e I Gionai minaci davanti. Subito, d'improvviso, due lampi nel grigiore in 60 secondi all'ottavo. Da un lato Agnello irrompe in aria e sfolgora un destro che si stampa sulla traversa. Dall'altro Taurino si invola sulla sinistra e spara un rasoterra che incoccia nella base del pavo. Al ventesimo Lanzolla da 30 metri, sfera su via Chiancarello. Tre minuti e Gionai ci prova di destro con medesimo esito. A dieci primi dall'intervallo stop e mezza girata del trequartista Tarantino. Blocca, Viola. Dopo la pausa, cliché invariato. Sette minuti incornata di Figliolia che scivola sul fondo. Al decimo l'evento che griffa il fato del match. Silletti esce maldestro dalla difesa, Polichetti scodella al centro e avambraccio di Gomes. Dal dischetto, Gionai spiazza Petrarca. I leoni adesso rugiscono malcerti. Minuto 21, Maffesi di vincola dei Mastini e calcia. Viola rimedia in tuffo. Asseda lo scadere, attimi di pregevole volle in aria granata. Il signor Gavini resta afono. Subito dopo, il traversone di Mariani da sinistra. Moscelli la spizza fuori. Primo di recupero, Orlando intercetta il pallone e tira Fulminio. Petrarca la inchioda sulla zolla. Estremo sussulto della gara, l'ultimo respiro. Volè dal limite di Taurino, cuoio che si bilaccanto all'incrocio. Finisce così, con i neretini festanti all'unisolo con gli sparuti sostenitori e gli imberbi neroverdi che sciamano fuori dal campo, affranti e a Capochino. E domenica prossima li attende la nobile vorace Cavese. Prima di andare da Mario Sicolo per commentare questa partita, mi dicono dalla regia che con noi Michele Lodato ha detto stampa della Cavese, quindi lo vado subito a salutare. Ciao Michele, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti, grazie a voi per avervi invitato. Tra poco veremo da te per parlare del prossimo match. Adesso vado da Mario Sicolo. Mario l'hai detto anche tu durante il servizio, ormai la classica partita del Bitonto. Possiamo dire così, un Bitonto che crea, che gioca bene, però poi viene punito dagli episodi. Sì, un attimo soltanto Claudio, io volevo aggiungermi anch'io all'abbraccio a Mario, al caro collega Mario, al fratello Michele, in ricordo appunto del padre Nino, che era un esempio di onestà, di integrità morale e di forza interiore come pochi. E poi volevo ricordare che il piccolino Nico porta il nome del nonno, che è stata una gloria del calcio nero-verde. Certo, e a proposito, io vorrei chiedere anche durante la conferenza stampa post partita al mister, no? Sì, il cliché è lo stesso, ormai il canovaccio è sempre quello. I ragazzi che entrano in campo sputano l'anima, sudano la maglia, come da sempre è stato desiderato dal nocchiero nero-verde. Però poi alla fine basta niente, una disattenzione, un'amnesia, ma anche se vogliamo un colpo di genio degli avversari, come comunque non è stato domenico, e alla fine finisce per perdere il Bitonto. È per perdere ancora terreno nei confronti delle altre squadre, perché se è vero come è vero che nella giornata scorsa alcuni risultati sono stati anche a favore del Bitonto, perché alla fin fine le dirette concorrenti o hanno perso o hanno fatto un punto, non di più, quindi non ha perso tanto terreno, ma intanto siamo tornati nella zona play-out, come era appunto prima dei due successi consecutivi. Quindi sì, purtroppo c'è la necessità di invertire la tendenza. Non sarà facile cominciare a farlo proprio domenica, visto che in un girone così equilibrato è livellato, purtroppo posto l'alto, l'unica forza davvero corazzata incontestabile è appunto la Cavese che è al primo posto, poi le altre grossomodo insomma se la stanno battendo. Chicco, voi che idea vi siete fatti di questa situazione? Perché la prestazione c'è, però come si esce adesso da tutto questo? Come si esce? Continuando a lavorare, con il lavoro giornaliero di tutta la settimana, anche parlando della partita di Nardò abbiamo fatto secondo me una buona gara, poco tecnica però molto fisica contro una squadra che comunque cercava tanto la palla lunga sugli attaccanti e alla fine abbiamo contenuto bene anche questo loro modo di giocare. Ci ha punito questo episodio del rigore e quindi è andata così, testa alla Cavese adesso domenica perché comunque dobbiamo pensare sempre partita per partita. Piano piano io sono sicuro perché anche noi abbiamo giocatori esperti, anche se siamo una squadra giovane abbiamo giocatori esperti e penso che ne usciremo presto da questa situazione. Tu ti senti tra questi giocatori esperti nonostante la giovane età? Sì, ci diamo una mano a vicenda, alla fine abbiamo ragazzi giovani che comunque hanno già giocato hanno calcato anche palcoscenici importanti e ci dobbiamo dare una mano tutti insieme e cercare di uscire da questa situazione. Andiamo a sentire le parole di Valeriano Loseto nel post partita. Viene difficile commentare questa partita perché devi commentare e analizzare un'ulteriore partita condotta per come dovevamo condurla contro un avversario sicuramente di categoria, di buon livello che però non si è espresso su grossi livelli. Noi abbiamo buttato veramente, oltre allo staccolo, il cuore, tutto quello che avevamo in singola forza però non siamo stati premiati nel realizzare. Vedi il palo di Taurino, l'occasione finale con Taurino, è vero che loro al primo tempo hanno colpito una traversa però c'è poco da fare, è un'ulteriore beffa perché non siamo stati mai impensieriti dal Nardò. I ragazzi hanno chiuso ogni varco, hanno chiuso ogni varco e come hai detto te siamo capitolati su un rigore che noi abbiamo concesso al Nardò, non si era neanche procurato. su una disattenzione di offensiva abbiamo sbagliato il rinvio e poi c'è stato in mani di Gomez in area ma signori miei, così sinceramente non va, i ragazzi devono capire che non basta con questo campionato ragazzi e noi, noi tutti dobbiamo capire che non basta con questo campionato riuscire a dar tutto o essere concentrati fino alla fine, anche nei minuti di recupero. Bisogna dare, tutti noi bisogna dare qualcosa in più perché è veramente un diritto sportivo non occupare quella posizione in classifica, meritiamo sicuramente qualcos'altro o è una posizione diversa, però il campo puntualmente ci dice che c'è qualcosa che non va e dobbiamo sicuramente lavorare affinché riusciamo a trovare questa benedetta situazione a queste sconfitte che sicuramente non meritiamo. Mario Sicolo è stato categorico Valeriano Losseto, così non va, bisogna dare anche più del 100% Il mister ha sempre predicato la necessità di insistere soprattutto sull'aspetto del cinismo della cattiveria, che effettivamente nelle prime giornate Bitondo sembrava quasi specchiarsi nella bellezza del suo gioco perché poi alla fine lo aveva detto Losseto giochiamocela con tutti perché tanto alla fine comunque è facile trovare contro squadre meglio attrezzate, di rango e quindi è meglio giocarsela, poi vediamo il risultato che viene e nonostante belle prestazioni dei ragazzi purtroppo il risultato non viene. Quindi è chiaro che domenica scorsa davvero il mister sì era fiero ovviamente per la prestazione dei suoi ragazzi, però oggettivamente c'è bisogno di trovare altro, di riuscire a trovare altro perché nei momenti in cui i giovani che sono comunque valorosi e appartengono ad un gruppo nel quale tra l'altro, come dimostra anche Carullo presente in studio, mister Losseto non preclude la porta a nessuno, tutti quanti fanno parte del progetto e tutti quanti devono impegnarsi affinché si ottenga un risultato migliore di quello che poi alla fine viene messo dal prato ogni domenica. Quindi è chiaro che nei momenti in cui si fa il massimo e poi magari non viene fuori quello che dovrebbe essere l'esito da tutti sperato, probabilmente ci vorrà qualcos'altro al di là dell'ottima volontà dei ragazzi ed è anche della bravura, dell'attenzione scafata del mister nel preparare l'attività in settimana e nell'addestrare i ragazzi in prospettiva. Anche perché abbiamo visto in più di un'occasione i ragazzi sono stati bravi anche a cambiare modulo tattico durante ogni partita. Abbiamo visto difese a tre, difese a quattro, qualche volta persino a cinque a Matera agli ultimi minuti, quindi ha cambiato spesso e volentieri anche lo schema con cui i ragazzi si disponevano sul prato, sul campo. Diciamo che le si sta provando tutte, probabilmente bisognerebbe fare anche qualcos'altro e non mi riferisco soltanto a quello che devono fare i ragazzi in campo. Chico, nove giornate sono andate via. Nelle scorse puntate abbiamo sempre detto che è ancora troppo presto per guardare la classifica. Adesso iniziate anche a guardarvi dietro? Sì, comunque devi avere una specie di pressione che ti deve portare a dover vincere le partite, perché prima ti salvi, prima raggiungi l'obiettivo e meglio è. L'importante è lavorare ogni giorno, tutta la settimana, perché poi la domenica raccogli quello che poi semini la settimana, secondo me, io sono di quest'idea. Andiamo a vedere i risultati, il quadro completo del girone HD serie D dopo la nona giornata di campionato con la sconfitta appunto del Bitonto in casa contro il Nardol, 2 a 1 del Brindisi sulla Fragolese, 1 a 1 tra Casarano e Barletta, vince la Cavese di misura 2 a 1 contro il Molfetta, 2 a 0 del Francavilla, contro il Fasano, 1 a 0 del Lavello, contro il Gladiator, colpo esterno della team Altamura, 2 a 3 sul campo della Nocerina, pareggio a reti bianche tra Gravina e Puteolana, un altro pareggio 2 a 2 tra Martina e Matera. Ora vediamo velocemente la classifica aggiornata con la Cavese al comando a quota 20, Brindisi e Fasano che inseguono a quota 18, 17 punti per Casarano e Nardol, Barletta a quota 15, a Fragolese 13 insieme alla team Altamura, Gladiator 11, poi nella parte destra Martina sempre a quota 11 punti, Nocerina 10, Lavello quota 9, Francavilla e Insini insieme al Bitonto ad 8 punti, Molfetta e Gravina 7, Matera 6 chiude la graduatoria. La Puteolana a quota 4. Mario Sicolo, parliamo adesso un po' di Gioacchino Carullo, che idea ti sei fatto di questo giocatore? Potrei dire che probabilmente era il giocatore che serviva, noi sappiamo che spesso e volentieri domenica lui è entrato, ha giocato, ha consentito anche al mister di avanzare per esempio Chiaradia, noi sappiamo che c'è la regola degli under da dover ossequiare necessariamente ogni domenica e questo diciamo che è una realtà di fatto da tutti accettata e acclarata, però oggettivamente noi sappiamo, stiamo parlando di un giocatore come Chico, come Gioacchino, che comunque ha già il suo curriculum, giustamente tu facevi notare, pur essendo giovanissimo perché a 23 anni insomma è davvero un virgulto, però ha già fatto le sue esperienze anche in campionati superiori rispetto alla Serie D, quindi sicuramente in alcuni frangenti della partita riesce a far sentire anche il peso della sua esperienza, dal momento che poi oggi ripeto è facile mettere un portiere under tra i pali, poi di solito si preferisce sistemare altri juniores sugli esterni perché si pensa che magari lì possano essere, diciamo, nella loro, diciamo, in esperienza facciano meno danni, ma in realtà così non è, anzi, perché se, come è capitato con Carullo, rassicurato maggiormente chi dice che deve spingere in avanti e poi la discorrenza, quando è necessario rimontare, rimuovere il giocatore, diceva in giocatore, portando avanti palla, quindi non è soltanto, ecco sì, è esterno, no, laterale, basso, però in realtà come ha giocato domenica, ma in realtà è uno che da un lato difende e copre con una certa grinta che non fa male assolutamente in questo campionato e poi con buona propositività. Ecco che, sì, ripeto, c'è quella legge da rispettare, indubbiamente su questo non ci piove, però voglio dire, un giocatore con i suoi gradi guadagnati sul campo non può che fare bene al gruppo, all'organico Nero Verde. Torniamo un po' indietro nel tempo, l'esperienza di Andria dello scorso anno in Serie C, quanto ti ha aiutato a maturare? Anche perché hai giocato parecchio. Sì, tanto, perché comunque giochi in altri campi, in altri palcoscenici, con giocatori che comunque hanno sempre fatto quella categoria e penso che quando ti alleni con determinati giocatori e la domenica vai a giocare in determinati stadi davanti a un certo numero di persone ti fa crescere tanto. Però comunque quello che si fa prima poi conta relativamente. Adesso dobbiamo tutti pensare che dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo e lavorare per raggiungere il prima possibile, come ho detto prima. Dal punto di vista tattico, invece, come diceva Mario Sicolo, hai dato anche l'opportunità a Mister Loseto di avanzare un altro terzino come Caradia nella posizione di esterno, però anche tu sei un giocatore che può tranquillamente giocare in fase offensiva. Sì, queste poi sono scelte che spettano al Mister. Domenica ha preferito giocare così, magari domenica cambierà, questo ancora non lo sappiamo. Noi lavoriamo, io lavoro per essere a disposizione della squadra in qualsiasi modo il Mister voglia giocare, voglia mettere me o un altro ragazzo. Dal punto di vista atletico, invece, come stai? Perché ricordiamo tu sei arrivato a mercato praticamente finito, da svincolato e poi sei entrato anche in un gruppo che era già pronto, già completo. Quindi, anche da questo punto di vista, come ti sei sentito accolto? No, molto bene. Sono tutti bravi ragazzi. Di questo sono contento. All'inizio ho avuto un po' di difficoltà perché comunque mi sono allenato, diciamo, da solo a casa, autonomamente. Quando sono arrivato ho avuto un po' di difficoltà, sapevo che dovevo lavorare e adesso sto decisamente meglio. Non mi sento ancora al 100% della forma perché comunque quella penso che l'acquisti solo giocando la domenica e quindi dovrò ancora lavorare per essere al 100%. E' il momento adesso di parlare della prossima sfida, quella che il Bitonto giocherà sul campo della Cavese. Partiamo proprio andando a vedere gli highlights della partita della Cavese contro il Molfetta e vinta proprio per 2-1. E la Cavese è la nuova capolista del Girone H, grazie alla vittoria per 2-1 in rimonta contro un Molfetta protagonista di una buona prestazione, convincente nonostante la sconfitta dopo tre risultati utili di fila e nel finale vicino al pareggio. Primo tempo subito a vincente ma partono meglio i campani. Punizione di Aliperta che si stampa sul palo, palla ancora lì, Foggia a porta vuota. Manda alto, occasione persa per la Cavese che poco dopo non sfrutta un calcio di rigore ottenuto sul contatto in aria tra Pinto e Palma. Ancora una volta e Foggia a mancare l'appuntamento per il vantaggio dei padroni di casa, bravissimo Diame a toccare. Quanto basta per la deviazione? Il Molfetta cresce col passare dei minuti e al quarantesimo trova la rete del vantaggio. Cross di Manzo in aria, Longo di testa sfiora e manda a vuoto l'uscita di Colombo, palla che rotola in porta e 1-0 per i pugliesi che festeggiano e pochi secondi dopo provano anche a raddoppiare con la conclusione di Montinaro. Da buona posizione, Colombo respinge, al 42esimo arriva la reazione della Cavese, subito decisiva. Aliperta carica il mancino e trova l'angolino basso e 1-1 risultato invariato sino all'intervallo e sfida aperta anche nella ripresa. Pugliesi prova la conclusione, debole e facile per la presa di Diame. Si fa vedere anche Bacio Terracino, portiere del Molfetta, ancora attento. Parata di Mister Bartoli risponde, viva acqua dalla distanza, palla a lato, i campani vogliono la seconda rete. L'occasione buona capita sulla testa di Gagliardi, ben piazzato sul secondo palo. Diame è miracoloso con il suo intervento che salva il punteggio ma solo per poco. Minuto 57, Aliperta riceve palla in aria, ha il tempo di coordinare il mancino e calciare in porta. 2-1, nulla da fare questa volta per Diame. Cavese che completa la rimonta, doppietta per il capitano della formazione campana. Il Molfetta prova a rispondere con la punizione di Montinaro, palla che sfiora il palo, poi ancora campani avanti nel tentativo di chiudere i conti. Prima Gagliardi, poi Banegas non trovano la porta, palla alta in entrambi i casi. Nel finale, al terzo minuto di recupero, tutti i rimpianti dei Pugliesi. Azione offensiva, Stasi mette in mezzo per la testa di Tedesco che non inquadra la porta. Grande chance per il pareggio ma nulla di fatto. Finisce così. Cavese, nuova capolista del campionato. Molfetta in campo, domenica prossima. Al Paolo Poli contro il Gravina. Vado da Michele Lodato. Michele, avete rischiato di mettere la partita sui binari sbagliati nel primo tempo, poi però si è vista la reazione da grande squadra. Sicuramente c'è stata la reazione che è una squadra importante, quella che avessi senza, diciamo, nascondersi doveva fare. La partita si era vista un po' male, come le immagini testimoniano, perché dopo la punizione è usurpata, il gol divorato a porta vuota e il rigore sbagliato, prendere un gol del genere su uno sbagliato difensivo avrebbe tagliato le gambe forse a molte squadre, poi a quarantesimo nel primo tempo, quasi con la testa degli spognatori. Invece la fortuna è stata non subire il 2-0 subito dopo e soprattutto pareggiarla prima di andare all'intervallo. Quella è stata forse la carta vincente, perché nella ripresa c'è stata solo una squadra sin da primi istanti è stata la Cavese, anche se come avete visto alle immagini al 92esimo il palo spizzato da Tedesco ci ha salvato. Ma questo, voi l'avete detto, vi ho ascoltato, questo è un cambiato davvero difficilissimo. Noi l'anno scorso abbiamo fatto il giurale siciliano e posso confermare che questo giurale non ha nulla a che vedere con quello siciliano, per intensità, per agonismo, per qualità dei singoli, per blasore delle squadre, per stati, per tifosi presenti allo stadio, non ha nulla a che vedere. Io l'ho sempre definito la Champions League della Serie D e credo che i risultati che ogni giornata vediamo ci portano sorprese in continuazione. Hai detto una cosa assolutamente giusta, ovvero che il girone H di Serie D non è assolutamente paragonabile agli altri. Ti faccio una battuta, siete da soli davanti a tutti, com'è guardare tutti dagli altri, anche se sono passati soltanto nove giornate? Beh, sicuramente c'è la soddisfazione comunque di passare una settimana in vetta, ma credo che la classifica oggi non deve essere guardata, perché siamo davvero all'inizio di un campionato lunghissimo, molto equilibrato, perché se vediamo le prime 7-8 della classifica sono racchiuse in pochissimi punti e tutti possono battere tutti, non esiste la gara semplice, perché se domenica vediamo la classifica, che avesse Molfetto è una gara da restato scontato, poi guardi la partita ed è una gara complicatissima, come senza voler mettere le mani avanti sarà anche quella col bitotto, perché sia per lavoro, per passione, ormai esegua la serie D e questo girone e credo che nettamente il bitotto abbia raccolto molti meno punti di quelli che meritava sul campo, quindi sappiamo benissimo che domenica non sarà una gara semplice come nessun'altra gara, tutte le squadre che sono lì sotto, poi quando vengono a giocare in stati comunque un attimino un po' più importanti, forse non hanno nulla da perdere, questa serenità, questa tranquillità gioca per queste squadre un'arma importante. Mario Sicolo, sarà un importante banco di prova per il bitotto contro l'Acavese, anche perché da quanto sembra a Cava dei Tireni si respira un'area importante anche sugli spalti? Probabilmente sì, si giocherà tanto del futuro del campionato, è vero, probabilmente può sembrare come dire una espressione troppo infatica la mia, però se noi riflettiamo, sono passate già nove giornate, domenica sarà la decima, è già una buona fetta delle giornate di campionato che sono state giocate, quindi sono trascorse. Il bitotto deve capire un po' bene qual è il suo destino, si giocherà effettivamente, sarà una gara, un match cruciale. Cava, a proposito, diceva giustamente il collega, parlando di questo girone difficilissimo, labirintico se vogliamo per quasi tutte le squadre, e si parlava di Blasone, penso che proprio l'Acavese possa dare lezioni di nobilità di calcio, anche se magari sulla carta non non vuole voler di nulla, o meglio sulla carta sì, ma sul campo no, però oggettivamente l'Acavese ha avuto la sua parte nella storia del calcio, anche se della cadetteria, ma di una certa importanza, quindi non sarà facile assolutamente, anche perché il bitotto ha la necessità, ripeto, di smuovere la classifica, di fare punti il più presto possibile, perché se è vero com'è vero che in testa sono racchiuse in pochi punti, hai ragione effettivamente, perché basta una vittoria, una sconfitta e magari immediatamente si invertono le posizioni nelle prime posizioni del campionato, nei quartieri nobili, però il bitotto ha bisogno di schiodarsi dalla zona play-out, probabilmente la gara di domenica, che ripeto sarà un banco di prova più che provante, decisivo, cruciale per le sorti del bitotto, probabilmente sarà difficilissimo che si possa iniziare già da domenica. Chico, con te vorrei fare due veloci osservazioni, ovvero la prima, come state preparando questa partita, se siete convinti che questo possa essere anche per voi un crocevia importante della stagione? Noi stiamo preparando la partita come prepariamo tutte le altre, vogliamo giocarcela contro una grande squadra, sì, blasonata, ok, però noi se vogliamo dire la nostra, dobbiamo lasciare questi commenti magari a voi giornalisti, perché a noi deve interessare poco il blasone di una squadra, noi dobbiamo cercare di fare più punti possibili, andare lì e fare la nostra gara, è questo. Comunque puoi assicurare a tutti coloro che ci stanno seguendo i tifosi del bitotto che vedremo un bitotto sicuramente agguerrito domenica. Sicuramente, come ho detto prima dobbiamo cercare di fare la nostra partita, sappiamo che loro hanno tanta qualità davanti, a centrocampo, dietro sono una squadra esperta, però anche noi abbiamo giocatori esperti che possono mettere in difficoltà chiunque, sono sicuro. C'è un tuo vecchio amico nella cavese, un certo Nico Bubas. Sì, Bubas, Gaeta, abbiamo giocato l'anno scorso insieme. Ecco, sarà bello rivederli insomma. Sì, è sempre bello poi rincontrare persone con cui hai giocato, è sempre un piacere. Vado di nuovo da Michele. Michele, che idea vi siete fatti voi lì di questo bitonto? Assolutamente, ne parlavamo oggi diciamo interamente allo staff comunicativo, con il social media manager, con il team manager e quello che dicevamo era la sintesi che assolutamente domenica è una partita complicatissima. Per noi il bitonto è un po' come se fosse il pinnice e il casarano uguale. Io ripeto, non è un girono in cui si può dare per scontato che una squadra vada in trasferta e perda perché l'altra squadra è blasonata o ha il fuoco sugli spalti o è la capolista. Non funziona così o almeno non in questo giro e anche. Forse in quello siciliano probabilmente l'anno scorso sì, ma in questo girone abbiamo visto subito con Altamura, Barletta in casa, col Pasano vincevamo 2-0, abbiamo proprio fatto 2-2. Nel novantese l'abbiamo rischiato anche di perdita. Quindi ti ripeto, assolutamente un bitonto che arriverà a Cava agguerriere affamato per fare bella figura, soprattutto per la classifica. Quindi è assolutamente gara difficilissima e lo sappiamo bene tutti, lo sa sicuramente anche la nostra squadra. Noi siamo quasi in chiusura, resto con Michele. Ti chiedo, dopo 9 giornate ti aspettavi una Cavese prima in classifica? Ci speravo, ecco, ci speravo che la Cavese fosse nelle prime posizioni, ma guardi, il privato di oggi deve dare gratificazione per queste 9 partite, ma non significa assolutamente nulla, perché come diceva il collega, basta perdere una partita e da sotto Vignett puoi trovare terzo o quarto. Io credo che sarà un campionato che si deciderà davvero le ultime 3-4 giornate, riguardando anche il calendario della Cavese, affronterà Brindisi e Casarano nelle ultime 4 partite. quindi ti lascio immaginare, prendendo oggi la classifica, nelle ultime 4 giornate cosa possa accadere. È vero sì che è passato un terzo del campionato, ma è un terzo del campionato che non può essere preso del tutto in considerazione, ma anche altissime gare e come risultati, per esempio, qualche settimana fa, dove c'era Brindisi, credo che nessuno poteva scommettere sulla vittoria della Nocerina, è fida 3-0. È un campionato complicatissimo e non lo sappiamo bene, massimo rispetto per il Bitonto, perché ripeto, che se la squadra io la seguivo già prima di ricoprire questo ruolo, ad inizio stagione, visto che da pochi giorni sono il nuovo responsabile della comunicazione, ma diciamo da giornalista già seguivo la Serie D, il Gioneac, quindi non vedete sempre gli highlights, visto anche gli highlights domenica in casa contro il Nardò, solo un rigore di approvare o di muovere la classifica, quindi sono ben consapevole che sarà una partita molto, molto, molto complicata. Sarà sicuramente una bella partita, andiamo velocemente a vedere il quadro del prossimo turno del girone H di Serie D, la decima giornata con Barletta, Afragolese, Cavese-Bitonto, Gladiator contro Francavilla, Matera-Brindisi, Molfetta-Gravina, Nardò, Martina, Putiolana, Nocerina, Timaltamura-Lavello e poi Fasano-Casarano. Noi ringraziamo Chicco Carullo per essere stato qui questa sera. Grazie a voi. Grazie a Mario Sicolo, con te ci rivediamo presto. Un caro saluto a tutti quanti voi. E grazie a Michele Lodato, in bocca al lupo per la partita di domenica. Grazie a voi, aspetto domenica a tutti i colleghi o voi che venite a quel cavolo di dentro, venite a prendere la massima accoglienza e prepareremo anche un pensiero per la società, per la scomparsa del piccolo Nico Rubini, quindi come società daremo la massima della vicinanza ai colori nero-verdi per questa purtroppo tragedia. Un bellissimo gesto quello vostro e quindi vi ringraziamo. Noi diamo appuntamento con una nuova puntata di Rugito Nero Verde giovedì prossimo. Concludiamo ancora con un grande abbraccio alla famiglia Rubini. Grazie. Questo programma è stato offerto da www.weworkpoint.it